Si comincia domani con un inizio previsto alle 16 sul neutro di Noliotta di Ricata, vista l'indisponibilità del presti. Il Gela farà il suo debutto nella stagione agonistica 2016-2017. I biancazzurri sfideranno la San Cataldese, gara unica di Coppa Italia. Chi vince proseguirà il cammino nella competizione. Un antipasto di quello che poi succederà nel campionato di Serie D. Sì, perché Gela e San Cataldese si rincontreranno successivamente nell'ambito della 14esima giornata. Già la passata stagione si sono sfidate ben quattro volte. In Coppa Italia passò il turno il Gela, 4-0 all'andata e 0-3 al ritorno. In campionato invece a San Cataldese la formazione gelese precipitò perdendo per 4-0, ma si rifece al ritorno vincendo per 1-0 grazie allo splendido gol realizzato da Bonafini. E quella vittoria diede il via per poi vincere il torneo di eccellenza. Tornando alla partita di domani, l'allenatore Toto Brucculeri dovrà inventarsi una difesa. Mancheranno infatti Strumbo, infortunato, Biancola che ha rescisso il contratto ed Evola a cui non è arrivato il transfert dalla Spagna dove l'attreta ha giocato nella passata stagione. Domani sarà la prima anche da presidente di Francesco Tuccio, nipote di Angelo Tuccio che ha preso le redini del club di Via Niscemi. Per la gara di domani la questura di Agrigento ha vietato la trasferta ai tifosi della San Cataldese per motivi di ordine pubblico. La motivazione è legata alla rivalità tra i tifosi della squadra di San Cataldo e quelli della Licata. Ricordiamo che la partita domani avrà inizio alle 16. Chi entra a far parte della famiglia Gela Calcio sa che si trova benissimo. Anche quest'anno abbiamo creato una bella famiglia. Non si parla di salvezza per il Gela Calcio? No, no, l'obiettivo intanto partiamo per fare un campionato al solito da protagonisti. Poi se l'obiettivo è la salvezza o è i play-off o qualcos'altro si vedrà nel corso del campionato. Però conoscendo la realtà giolese e conoscendo anche i nuovi arrivati, secondo te questa squadra a cosa può puntare? Allora, questo ad oggi non te lo so dire, anche perché non so se il mercato è stato già chiuso o deve arrivare qualcun altro. Ad oggi ti posso dire che abbiamo uno splendido gruppo formato da under veramente valorosi che lotteranno insieme a noi grandi per fare un gran bel campionato.